Partiamo con questo secondo seminario, abbiamo la dottoressa Marina Elli dell'Università Cattolica di Piacenza, la dottoressa Rita Ostana e la dottoressa Aurelia Santoro dell'Università di Bologna. Ci condurranno in questo viaggio temporale, direi, nel microbiota dentro di noi per conoscere quello che abbiamo dentro e a che cosa serve. Ultimamente il microbiota è sicuramente un tema di attualità proprio perché si stanno scoprendo tutte le relazioni che ha con quello che è il benessere, il sistema immunitario e tante interazioni proprio con quel farci stare bene nell'età. Lascio la parola alla Maria Dottoressa Aurelia. Io ringrazio il dottor Angarano per l'opportunità che mi offre oggi, è un piacere essere con voi e adesso se scopro come... perfetto. Ed è un piacere parlare in questa prima parte della presentazione di quello che è il ruolo del microbiota nelle prime fasi della vita. Mi presento brevemente perché la mia provenienza è parzialmente universitaria, almeno l'è stato fino a parecchi anni fa e negli ultimi 12 anni mi occupo di uno spin-off dell'Università Cattolica che ha la propria sede tra Piacenza e Parma, esattamente più o meno a metà strada e nasce dall'iniziativa di quelli che sono stati alcuni ricercatori, un professore appunto dell'Istituto di Microbiologia della Facoltà di Piacenza. In sostanza siamo un laboratorio che si occupa di analisi dei probiotici, quindi lavora in un mondo molto di nicchia sulla caratterizzazione, lo studio, tutto quello che riguarda l'uso dei microorganismi benefici per la promozione della salute. Siamo un gruppo 100% femminile, non so se questa è cosa percepita come positiva o negativa, ma in ogni modo andiamo d'accordo e da 12 anni lavoriamo insieme in modo efficiente e organizzato. È un'azienda giovane di una decina di persone con una formazione prettamente di tipo accademico. Il 70% delle persone hanno un dottorato di ricerca. Di cosa ci occupiamo in sintesi per introdurre il tema della presentazione di oggi? Ci occupiamo dell'interazione tra i microorganismi e l'ospite, specificamente i microorganismi che albergano nel nostro intestino con un occhio particolare a quelli che possono essere utilizzati e che già sono utilizzati commercialmente per la promozione della salute. Questa slide la uso spesso per far vedere com'è forte l'interazione. Uno pensa che i microorganismi siano qualcosa che viene ingerito e passa, in molti casi è così, sono transienti, ma in molti casi fortunatamente e sfortunatamente, dipende dalle situazioni, interagiscono fortemente col nostro tessuto intestinale e non solo. In quel caso vedete una cellula di un latobacillus crispatus che è appoggiata sulla mucosa colonica, in questo caso un tessuto di topo, quelle palline che vedete sono muco, è un po' un artefatto al microscopio elettronico del muco, ma non sono un artefatto quelle formazioni particolari che sembrano quasi bracci che non si capisce se partono dal microorganismo o dal muco stesso. Ma questo semplicemente per dare un'idea visiva della profondo contatto e della profonda interazione che si stabilisce a livello gastrointestinale tra microorganismi e ospite, cioè noi, noi nelle diverse fasi della vita. Abbiamo a lungo lavorato su questi meccanismi, anche se siamo a tutti gli effetti un'azienda privata che fa servizi per le aziende farmaceutiche e alimentari, collaboriamo molto con l'università, non abbiamo dimenticato la nostra origine, la nostra formazione originaria e lavoriamo molto anche su progetti di ricerca nel tentativo di capire, e siamo ai me ben lontani dal capire profondamente quali sono i meccanismi che sottendono all'interazione di cui vi parlavo prima, ragionando in senso assolutamente generico. Sono particolarmente lieta di parlare dell'interazione tra microbiote e prime fasi della vita, a partire addirittura dal concepimento, perché sono sempre stata convinta, lo dico sempre, senza nulla togliere chiaramente a delle ragioni commerciali che poi sottendono all'uso di prodotti di tipo probiotico, sono sempre stata convinta che la finestra temporale dal concepimento alla primissima infanzia fino allo svezzamento sia, come ormai peraltro dimostrato anche da diversi autori, veramente una finestra temporale, una finestra non a caso ha usato quel tipo di immagine che guarda al futuro, nel senso che in quella fase lì in cui avviene l'instaurarsi del microbiota a livello intestinale, si iniziano tutta una serie di interazioni con il sistema immunitario, con il cervello e con tutti gli altri organi che poi in qualche modo condizionano lo stato di salute delle fasi successive della vita. Il grosso problema è che ancora non sappiamo come, se non si conosce il meccanismo non è possibile poi neanche ipotizzare una modalità di intervento, però come vedremo nel corso della presentazione ci sono degli input molto interessanti e quindi i meccanismi non sono ancora stati definiti chiaramente, però ci sono sicuramente degli stimoli di riflessione molto importanti, siamo sulla buona strada. Ora qualche concetto di base a fini puramente introduttivi, poi immagino che questi concetti verranno esplorati ulteriormente successivamente dalle colleghe, il concetto di equilibrio. Il nostro microbiota intestinale è in condizioni diciamo di normalità in un adulto, in una condizione di equilibrio che va sotto il nome di eubiosi. Questa eubiosi è di fondamentale importanza, anche se è difficile definire che cosa sia, perché ognuno di noi ha la propria eubiosi in termini di composizione quantitativa dei microorganismi che compongono il microbiota. È un concetto un po' generico di omeostasi, analogo al concetto come lo si affronta spesso e lo si considera spesso in biologia, ma è prezioso perché significa che quando c'è un equilibrio c'è anche la capacità di far fronte agli elementi, ai fattori di disturbo. Infatti il concetto di resilienza, altro concetto caro a molte discipline e non solo alla biologia, è proprio quello di capacità di assorbire le perturbazioni e ricomporre la propria struttura originaria. Sulla resilienza si basa la capacità del nostro microbiota di subire le perturbazioni, ma poi di riacquistare la propria struttura originaria. Per dare un'idea di cosa intendo, uso spesso questa immagine che è vecchia nel senso che si riferisce a una tecnica analitica ormai obsoleta, però se guardate la parte destra, quel riquadro con quei profili verticali, ciascuno fatto di una serie di bande orizzontali, allora voi immaginate che ogni profilo verticale sia il profilo del microbiota fecale di un individuo. Ogni banda orizzontale identifica un gruppo o una specie batterica, è quella che veniva chiamata una volta l'impronta gastrointestinale dell'individuo, un po' come un'impronta digitale. Bene, se considerate i profili verticali siglati con 1.1, 1.2, 3, 4, quelli sono quattro prelievi fecali dello stesso individuo in anni diversi. Vedete come sono simili i profili, con qualche differenza, qualche variazione legata più che altro all'intensità delle singole bande, però sostanzialmente il profilo resta uguale, cioè la nostra impronta microbica intestinale, tende a restare inalterata nel tempo. Quando intervengono delle perturbazioni, cioè dei fattori che disturbano l'equilibrio gastrointestinale, nel caso specifico dei trattamenti antibiotici, delle condizioni di particolare stress, delle patologie non troppo gravi, diciamo così, questo profilo viene alterato ma è un'alterazione temporanea. E di che tipo? Ve lo mostro. Allora, gli stessi profili che avete visto prima, li rivedete lì un po' più intensi, profili di soggetti sani, quando subiamo un trattamento antibiotico succede questo, cioè succede una deplezione, si direbbe in inglese, la perdita di una serie di bande orizzontali nei nostro profilo. Vuol dire che ci sono gruppi batterici che si riducono quantitativamente, vuol dire che c'è un impoverimento, una riduzione della biodiversità. Ed ormai è assodato da parecchi autori in situazioni patologiche molto diverse, che a determinate patologie si associa una riduzione della biodiversità. Quello che rappresenta un problema è quando questa riduzione di biodiversità permane nel tempo, non si risolve nell'arco di una settimana, due, un mese, cioè con la fine ad esempio del trattamento antibiotico, ma permane nel tempo. In particolar modo nei bambini quali sono, tanto per dare un'idea semplicemente dei nomi, quali sono le patologie che si associano a delle condizioni cosiddette di disbiosi, cioè di alterazione dell'equilibrio, sono quelle che vedete indicate nella slide. Ciascuna di esse meriterebbe, con riferimento al ruolo del microbiota, almeno una presentazione a sé stante. Io chiaramente non vi annoio su questi aspetti, non sono un medico e tengo sempre a precisarlo, quindi non affronto aspetti clinici se non correlati al mio ruolo, che è quello di studio dei batteri, però giusto per darvi un'idea che ci sono patologie assolutamente diffuse a livello pediatrico, comunque note a livello pediatrico, che hanno una correlazione strettissima con la disbiosi gastrointestinale. La parola chiave per affrontare l'interazione microbiota prime fasi della vita è colonizzazione. Parecchi autori ormai riconoscono il ruolo fondamentale della colonizzazione, di come essa avviene, dei tempi che la caratterizzano. Cosa vuol dire colonizzazione? Vuol dire l'instaurarsi dei microorganismi all'interno del nostro intestino. Ho riportato due definizioni a 10 anni di distanza per far vedere come autori che hanno pubblicato a 10 anni di distanza alla fine abbiano fatto lo stesso tipo di osservazione. Uno dice che è ormai chiaro che il processo di colonizzazione infantile deve essere studiato attentamente perché è provato che impatta sulla salute dell'ospite e l'altro dice 10 anni dopo la stessa cosa. Come il microbiota si instaura all'interno del nostro intestino influenza, vedete quante cose, la maturazione dell'intestino, la maturazione delle attività metaboliche, del sistema immunitario e addirittura del cervello. Tutti voi avrete sentito parlare dell'asse intestino-cervello, va molto di mode, se ne parla moltissimo. Ora la colonizzazione è un processo graduale che avviene con modalità diverse a seconda di una serie di fattori che vedremo dopo. È un processo graduale e si credeva fino a non tanto tempo fa che il bambino nascesse sterile e che poi venisse contaminato dai microorganismi alla nascita con modalità diverse a seconda del tipo di parto. Ora questo è sempre vero ma ormai è stato provato negli ultimi anni che il bambino non nasce sterile, che già ospita dei microorganismi alla nascita che vengono dalla madre. Per dimostrarlo, per darvi un'idea, ho preso questo lavoro pubblicato l'anno scorso dove ci interessa vedere, non tanto perché l'immagine è complessa e non pretendo che si vedano i dettagli, ma giusto per farvi vedere come questi autori hanno indicato che il 77% dei campioni di meconio che hanno analizzato nel corso di uno studio contenessero DNA batterico. Vuol dire che praticamente 8 campioni su 10 che hanno analizzato contenevano batteri nel primo campione fecale che il bambino produce dopo la nascita. Campione fecale si fa per dire, nel senso che non è un campione fecale vero e proprio, ma è un insieme dei liquidi che il bambino ingerisce nel corso della sua vita da feto. Bene, appunto, contenevano già batteri questi campioni e vedete anche con che grado di diversificazione perché ci sono, voi probabilmente non riuscite a vederlo, ma ci sono lattobacilli, ci sono bifidobatteri, ci sono enterococchi, ci sono clostridi, quindi assolutamente un elemento di interesse. Queste cose noi le sappiamo oggi, non le sapevamo già solo 5-6-7 anni fa, perché le tecniche analitiche chiaramente hanno fatto dei passi avanti notevolissimi, le tecniche di sequenziamento, chiamiamolo spinto, si chiama deep sequencing, permettono, estraendo il DNA o l'RNA direttamente dai campioni biologici, di andare a caratterizzare nel dettaglio la composizione del microbiota. Va precisato che non è tutto oro quel che luccica perché si producono tantissime informazioni che poi vanno però in qualche modo utilizzate correttamente, quindi ci sono ancora molti passi da fare anche in questo senso per avere poi dei risultati attendibili. Mi sono permessa di inserire nella presentazione, parlando delle prime fasi di vita, il concepimento, perché anche qui ci sono tante cose non dette fino a qualche anno fa, cioè il fatto che c'è una componente microbica significativa anche prima delle primissime fasi di vita, prima della gravidanza e questa componente microbica condiziona ad esempio la fertilità, sia maschile sia femminile. I discorsi sulla fertilità maschile sono abbastanza recenti, però sono i risultati estremamente interessanti. Cerco di darvene un'idea in tempi rapidi, però questo è un lavoro del 2014 sulla caratterizzazione del microbiota di campioni di liquido seminale e i risultati, ho cercato veramente di fare un lavoro di estrema sintesi, mostrano che la composizione, la tipologia di comunità batterica che caratterizzava questi campioni era associabile alla qualità del campione stesso, quindi qualità in termini di fertilità del campione. Ed è interessante vedere come le componenti preponderanti di questi campioni sono lattobacilli, pseudomonas, prevotella, stafilococchi come spesso accade, Gardnerella che è un tipico patogeno di origine vaginale, che si trova frequentemente nell'apparaturo genitale femminile. Sorprendentemente, ma anche in modo interessante, questi autori hanno raggruppato i campioni di liquido seminale in tre diverse tipologie, in tre gruppi, li chiamano cluster, in funzione del microbiota dominante. C'erano i campioni in cui c'era un microbiota dominato da lattobacilli, quelli in cui c'era il microbiota dominato da prevotella e da pseudomonas. E si sono resi conto, andando a piazzare i singoli campioni in uno di questi tre gruppi, in ciascuno di questi gruppi, che i puntini rossi si collocavano di preferenza nel gruppo G2 e i puntini blu nel G1-G3, cioè campioni rossi, quelli di migliore qualità, i cosiddetti loro li chiamavano normali, e i case, cioè quelli con problemi di ridotta fertilità, i puntini blu. Cioè sono riusciti ad associare la qualità del campione a dire che i campioni migliori dal punto di vista della fertilità stavano nel gruppo che aveva una prevalenza di lattobacilli. Può sembrare cosa da poco, ma se voi pensate che i lattobacilli li assumete normalmente con gli integratori alimentari e con gli alimenti anche, sono starter alimentari utilizzati nel mondo caseario, nel mondo della produzione dei salumi, in tantissime produzioni nel bakery, e sono anche poi probiotici che assumete andandoli ad acquistare in farmacia dalla grande distribuzione, pensate alla possibilità di usare questi stessi prodotti opportunamente sviluppati, opportunamente provati, studiati, per ad esempio creare un ambiente più fertile per agevolare anche la riproduzione assistita, oltre che quella naturale. dall'altra parte fertilità femminile, predisposizione diciamo al concepimento, anche qui si riteneva che ci fossero, si sapeva e si sa da una vita, che la parte terminale dell'apparato urogenitale femminile ospita microrganismi, e lo si sa da almeno 200 anni, forse anche di più. Poco si sapeva circa quello che viene ospitato nella parte più alta, a livello uterino. Io vi ho risparmiato gli articoli e i dati scientifici, però ci sono articoli che dimostrano che diversi comparti dell'apparato urogenitale femminile ospitano batteri, a livello uterino sicuramente sì, abbiamo visto prima il meconio che contiene già dei batteri, e quello che si sa ormai, vi dicevo già da 200 anni classicamente, è il ruolo dei lattobacilli, tornano per l'ennesima volta, in vagina, per predisporre un ambiente favorevole alla salute di quel comparto del nostro organismo. Si sa ad esempio che i lattobacilli rappresentano in una donna sana normale dal 90 al 95% della carica batterica vaginale, si sa che ci sono più di 20 specie diverse che caratterizzano questa comunità di lattobacilli, vi ho riportato dei nomi magari un po' difficili da memorizzare, ma che sono lattobacillus crispatus, iners, gasseri, genseni, che sono i più tipici, quelli diciamo preponderanti, i più tipici reperibili in vagina, e curiosamente sono anche quelli, ad esempio i gasseri, che si trovano più facilmente nel bambino nei primissimi giorni di vita, e non solo nei primissimi giorni, noi abbiamo fatto uno studio su dei bambini cinesi, fino a 4 mesi si trova l'attobacillus gasseri, che è chiaramente di provenienza materna. Ora, venendo un po' più in là, cioè sorpassando la fase del concepimento, e quando il concepimento ha successo, arriviamo alla successiva fase di vita, la gravidanza e poi il parto. In termini di gravidanza vi ho riportato questa sintesi, presa da un articolo di tre anni fa, dei fattori che intervengono a condizionare l'equilibrio del microbiota sia nella mamma sia nelle prime fasi di vita del bambino. cercare di affrontare tutti questi fattori, di capire che influenza possono avere sullo sviluppo del microbiota del bambino è un po' complicato, soprattutto molto lungo, ma io avreste odiato. Allora ho pensato di focalizzarmi su due degli elementi più noti, su cui ci sono più informazioni, e anche sicuramente preponderanti, cioè il modo di parto e la modalità di nutrizione del bambino. Sul modo di parto, che qua si potrebbero dire mille cose, classico, parto naturale, vaginale, parto cesareo. Si sono dette, ci sono, non lo so, posso dire milioni di articoli, si possono dire cose molto diverse. Per fare un'estrema sintesi, cioè cose molto diverse in termini di dati, risultati, ma poi la via fondamentalmente è una ed è quella che vi presento. Ora, nei primi fondamentalmente due giorni di vita, l'intestino del bambino ospita in modo preponderante enterobatteri, fondamentalmente, e via via dal momento della nascita si instaura un processo di colonizzazione che poi fondamentalmente non si ferma più fino allo svezzamento. Ora, capite bene che quel non si ferma più vuol dire che quella lì è la finestra nella quale volendo si può intervenire per predisporre un corretto sviluppo successivo. Nei bambini nati con parto naturale, dal secondo giorno di vita indicativamente fino a, qui si dice il decimo, ma poi a seconda dei report dei diversi autori la cosa può cambiare di qualche giorno, ma diciamo c'è una finestra di una settimana nella quale il bambino nato con parto naturale comincia a sviluppare, comincia ad accogliere nel suo intestino dei batteri anaerobi sempre più stretti a mano a mano che il tempo passa. Cioè sostanzialmente comincia a crearsi un ambiente favorevole ai, per esempio, bifidobatteri che sono poi preponderanti, lo vedremo via via nella presentazione, nel bambino nato da parto naturale nei primi mesi di vita. Cosa succede nei nati con parto cesareo? Vediamo se riesco a mostrarlo. Succede che quella finestra lì, tra il secondo e il decimo giorno, diventa una finestra tra il secondo giorno e il primo mese di vita. Cioè c'è quello che tutti gli autori chiamano un ritardo di colonizzazione, dovuto a cosa? Banalmente, molto probabilmente, dovuto al fatto che un bambino nato con parto cesareo non viene a contatto con i fluidi materni durante il parto. La prima cosa con cui viene a contatto sono le mani degli operatori, cioè i guanti, ma insomma, le mani degli operatori e l'ambiente ospedaliero nel quale ha luogo il parto. Chiaramente quello con nato con parto naturale viene a contatto con ben altre cose oltre a queste e di conseguenza c'è una naturale colonizzazione, anche da parte dei bifidobatteri, di tutta quella microflora strettamente anaerobia che però è lenta a crescere, quindi ha bisogno di un po' di giorni per insediarsi nell'intestino e cominciare a svolgere le sue attività. Questo ritardo, che è unanimemente riconosciuto nei nati con parto cesareo, ora, il dato che vi ho mostrato, diciamo, lo schema che vi ho mostrato prima si riferisce a delle conte fatte su dei terreni selettivi, quindi un approccio che si dice microbiologia culturale. Questo dato che vi mostro dell'anno scorso si riferisce invece a un approccio di sequenziamento spinto, ma anche qui conferma questo discorso legato al ritardo. Vedete, nella parte sopra c'è l'andamento della prevalenza di un bifidobatterio, il longum, che è uno dei bifidobatteri che si trovano nell'intestino del bambino. Nei nati con parto naturale sono le barre blu, rispetto ai nati con il cesareo sono quelle rosse. Sulla scissa ci sono i giorni, dal meconio due giorni, sette giorni, un mese, eccetera. Anzi, un mese, tre mesi, sei mesi. Allora, vedete come le barre rosse appaiono molto più tardi rispetto a quelle blu, cioè come quello stesso microorganismo nei nati col cesareo venga fuori sia detectabile dopo una settimana, quando invece era già praticamente detectabile nel meconio, nei nati col parto naturale. Questo ha dimostrazione che effettivamente anche le tecniche più recenti, che danno dei dati più precisi e più approfonditi, perché qui ragioniamo di specie, quindi ragioniamo veramente di una piccolissima parte del microbiota del bambino, però vedete come confermano il discorso del ritardo. Il ritardo si recupera, gli ultimi saranno i primi magari, quindi non è un problema di panico connesso al parto cesareo. Quanto tempo ci vuole per recuperare la distanza? Anche qui i report degli autori sono molto diversificati. Il recupero, secondo alcuni autori, può avvenire in un mese, secondo altri addirittura richiede alcuni anni di vita del bambino. Mediamente quelli che hanno fatto studi col deep sequencing dicono almeno sei mesi indicativamente. Sei mesi perché l'intestino del nato col cesareo si avvicini come composizione a quella del nato con parto naturale, cioè sei mesi perché l'intestino abbia tutte le capacità per accogliere, per sviluppare la microflora bifida per esempio. Ma perché? Perché gli è mancato l'inoculo, molto semplicemente. Ragion per cui, e qui faccio una nota, in alcuni casi, nei bambini nati con cesareo alimentati con la formula, cioè con il latte artificiale, vengono aggiunti dei bifidobatteri, proprio per promuovere questa colonizzazione. Questo è un lavoro che abbiamo fatto noi alcuni anni fa, anzi una collega qualche anno fa, anno fa confermando proprio la differenza fra cesarizzati e nati con parto naturale in termini di presenza di microorganismi, ma non vi tedio su questo. L'altro fattore importante, dicevamo, oltre al modo di nascita, è il tipo di alimentazione. Allora, il gold standard, cioè la situazione ideale, è l'allattamento al seno. Anche qui si riteneva che il tessuto materno fosse sterile, eccetera, eccetera. Non è così, è stato provato, e vedete già nel 98, quindi già praticamente 20 anni fa, che ci sono dei batteri detettabili nel tessuto del seno materno. E quello che succede molto probabilmente è che quando il bambino, quando la mamma allatta e il bambino succhia, c'è uno scambio di microorganismi tra il seno materno e la cavità orale del bambino. Per cui l'allattamento, oltre all'aspetto nutrizionale, ha un significativo aspetto di contaminazione microbica, ma in questo senso positiva, può essere negativa, in funzione del tipo di microorganismo che viene trasferito. Ora, tralascio le cose che possono in qualche modo annoiare, perché l'orario è un po' critico, ma nel latte, il latte materno è sterile, risposta no, contiene batteri, in che misura? Allora, qui dal punto di vista scientifico i report sono molto diversificati. Contiene batteri che vengono dal seno della madre, ma anche dall'intestino materno. I report, vi dicevo, sono diversificati, perché diverse sono le tecniche semplicemente di prelievo del latte. C'è chi è andato a studiare la composizione microbica del latte materno e non ha fatto alcun tipo di disinfezione della pelle del seno prima del prelievo. Ci sono report in cui non sono state allontanate, eliminate le prime gocce, dove la contaminazione microbica è più elevata. Insomma, comunque, nonostante il disaccordo tra i diversi autori, almeno un 10 alla 2, 10 alla 3 CFU, diciamo cellule per millilitro di latte materno, ci sono, il che rappresenta comunque un significativo inoculo, ma modesto, confrontato con altri tipi di campioni biologici. Ora, quali microorganismi stanno nel latte materno? Io non so se si vede, temo di no, ma vi dico brevemente, nella colonna a sinistra trovate l'indicazione data da diversi autori che hanno pubblicato su questi temi, e ci sono sicuramente degli streptococchi, streptococchi salivari, streptococcus termophilus, vivono benissimo nel latte, degli stafilococchi, degli pseudomonas, quindi, insomma, una presenza microbica composite. Fino a un po' di anni fa c'erano autori che dicevano che c'erano moltissimi bifidi e moltissimi lattobacilli. I report più recenti, invece, vi farò poi vedere qualcosa dopo, dicono che tutto sommato c'è una presenza di bifidi e lattobacilli, ma non così quantitativamente elevata come si credeva un po' di tempo fa. Come è fatto il latte materno? Non affronto aspetti prettamente nutrizionali, ma ve lo dico solo per introdurre un elemento, sempre a sostegno del ruolo del microbiota, è fatto di lattosio, di saccaride in modo preponderante, di grassi, ed è fatto da una percentuale significativa di HMO, che stanno per Human Milk Oligosaccharides, cioè dei glicani, molecole corte, fatte da un certo numero di unità di galattosio e di glucosio, che sono fondamentali, importantissimi, per una serie di funzioni che il latte materno svolge nella promozione del sistema immunitario del bambino, ma in questo caso io mi occupo di più del loro ruolo nella promozione della crescita di certi batteri. Vedete che nella parte destra della slide gli oligosaccaridi materni sono molto compositi, cioè strutturalmente e chimicamente sono molto diversi tra di loro, hanno masse diverse e strutture diverse, e questo rende ragione della notevolissima difficoltà analitica per riconoscerli e ancora di più per isolarli. Tanto per darvi un'indicazione, il 2-fucosil lattosio, il 2-sialil lattosio, sono tra gli oligosaccaridi del latte materno di maggiore interesse, c'è una sola ditta al mondo che lì commercializza, un grammo costa 1000 euro, cioè per darvi l'idea di veramente bisogna partire da tantissimo per ricavarne pochissimo, ragion per cui non sono ancora utilizzati a livello commerciale, ma sarebbero preziosissimi e non si esclude naturalmente che nel futuro questa cosa possa avvenire. Questa è la struttura degli oligosaccaridi del latte materno nella parte alta, confrontata con la struttura del latte di altre specie animali. Non mi dilungo, anche qui ci sono tanti studi che hanno caratterizzato gli oligosaccaridi del latte umano rispetto a quelli degli animali domestici. mi sembrava utile il concetto che ho sottolineato in giallo. Gli animali domestici hanno nei propri oligosaccaridi del latte una preponderante presenza di oligosaccaridi di tipo 2 che sono sostanzialmente diversi da quelli di tipo 1 che sono prevalenti nel latte umano. Questo spiega come mai, almeno dà una spiegazione, come mai l'uso del latte di altri animali non è comparabile a quello del latte materno almeno con riferimento alla promozione del microbiota. Cosa fanno gli oligosaccaridi del latte? Perché sono così importanti? Perché fanno da prebiotico, cioè fanno da supporto alla crescita, si diceva una volta esclusivo, ma in realtà non è così, ma da supporto preziosissimo alla crescita dei bifidobatteri. Avete visto, abbiamo visto prima, come nei nati comparto naturale, in quella finestra temporale di poco più di una settimana i bifidobatteri cominciano a crescere nell'intestino, l'allattato al seno ha il grande vantaggio di ricevere delle sostanze che nutrono specificamente questi batteri. Quindi da qui, almeno dal punto di vista microbiologico, in questo sta la rilevanza dell'allattamento al seno, l'importanza dell'allattamento al seno. Queste sono alcune tra le specie di bifidobatteri che si trovano nell'intestino dei bambini, colonne azzurre e colonne, diciamo, viola, perché sono due diversi autori che hanno studiato questa presenza di bifidi nei bambini in tempi diversi, a distanza anche qui di una decina d'anni l'uno dall'altro. Vedete che ci sono delle variazioni in composizione, cioè ogni bambino rispetto alla quantità di certe specie di bifidi ha un suo profilo. Però, per esempio, il bifidobatterium longum, l'infantisi, il breve, l'adolescentis, eccetera, sono tutti nomi che magari avete visto scritti da qualche parte o su qualche prodotto. Come fanno i bifidi? Cosa se ne fanno degli oligosaccardi? Li utilizzano, li utilizzano a fini nutrizionali, li utilizzano per crescere. Questa è un'indicazione di come sono diversi in natura i meccanismi che le diverse specie di bifidi adottano per utilizzare gli oligosaccaridi. C'è qualche specie che prende l'oligosaccaridi all'interno della cellula, poi se cerne delle fucosidasi, che tagliano, sono degli enzimi, che tagliano gli oligosaccaridi e consentono al microrganismo di utilizzarseli come fonte energetica, qualcun altro produce altri enzimi al di fuori della cellula. Però tutto questo per dire c'è diversificazione dei meccanismi, ma si sa molto bene ormai come gli oligosaccaridi del latte materno promuovono la crescita dei bifidi. Quindi su questo direi che non c'è più tema di smentita. Ora, una cosa interessante che abbiamo, devo dire, scoperto, perché non abbiamo lavorato specificamente sugli oligosaccaridi del latte materno, dalla collaborazione col professor Coppa dell'Università Politecnica delle Marche, che è uno dei massimi esperti italiani di oligosaccaridi del latte materno, è che c'è una fortissima associazione tra gruppo sanguigno e tipologia di latte materno. Cioè, per noi donne, in funzione del gruppo sanguigno di appartenenza, c'è un po', chiamiamolo, consentitemi la semplificazione, un profilo tipico di oligosaccaridi del latte materno. E nella popolazione in generale, in questo caso, ad esempio, il professor Coppa aveva fatto un confronto tra le donne italiane e le donne, in questo caso, sudcoreane, c'è la prevalenza di determinati gruppi sanguigni e quindi di determinati profili in oligosaccaridi. Anche qua può sembrare una banalità, ma se pensate alla rilevanza di questo concetto, se si riuscisse, e si è sulla buona strada, a caratterizzare gli oligosaccaridi del latte materno in funzione del gruppo sanguigno, pare ormai certo che ci siano almeno un paio di gruppi sanguigni su quattro che sono poveri in fucosillattosio. Quelle mamme, probabilmente, hanno meno capacità di altre di promuovere la crescita dei bifidobatteri. Questa potrebbe essere una modalità, questo concetto, per fare una diagnosi nei primissimi giorni dopo il parto, una semplice, diciamo, semplice, tra virgolette, analisi del latte materno, o addirittura, molto prima, conoscendo il gruppo sanguigno, si può ipotizzare che ci possa essere la necessità di fare un'integrazione dell'alimentazione del bambino, per esempio con bifidobatteri. Quindi questa cosa apre effettivamente delle possibilità assolutamente interessanti con la finalità, chiaramente, di promuovere la salute del proprio bambino. Vi segnalo il fatto che l'anno scorso, tanto per indicare come le aziende, che hanno chiaramente un interesse di tipo commerciale, siano però molto attenti a questi temi, sono usciti l'anno scorso due articoli su due temi strettamente connessi da parte delle due principali multinazionali che, diciamo, si occupano di alimentazione del bambino in varia misura e che sponsorizzano studi clinici in Europa, ma molto spesso fuori dall'Europa per ragioni di costi, studi clinici per studiare proprio le caratteristiche del latte materno e di come il microbiota intestinale in qualche modo possa essere governato nel suo sviluppo all'interno dell'organismo del bambino. Ripeto, non vi voglio intrattenere più di tanto, la cosa che mi sembrava interessante sottolineare era che in uno di questi studi hanno, come vi dicevo prima, studiato la composizione in lato bacilli e bifidi del latte materno e sono effettivamente tutto sommato poco presenti rispetto a quello che si diceva prima. In questo caso erano, ad esempio, due campioni, avevano lato bacilli su una sessantina di campioni analizzati, però tuttavia, questo è preso da un altro studio dell'altra multinazionale, tuttavia si parla di 10 alla 3, 10 alla 4 di presenza di bifidi e lato bacilli nei campioni di latte materno considerati. Sull'allattamento con formula possiamo dire di tutto di più, cioè chi non può allattare al seno deve affidarsi chiaramente al latte artificiale, all'allattamento con formula. Io sarebbe stato troppo lungo parlare della composizione delle formule, di tutto quello che si può fare viene fatto nella composizione delle formule per avvicinarle il più possibile all'efficacia del latte materno nella stimolazione del microbiota. La cosa che mi sembrava corretto ricordare è l'uso dei galato-oligosaccaridi, dei frutto-oligosaccaridi in molte formule proprio per l'azione che hanno di promozione della salute. Questo è una vecchia, se vedete che è una slide di più di 20 anni fa, ma per dire che questa cosa la si sa da molto tempo. Si sa che FOS, GO e GOS, ma soprattutto FOS, hanno un effetto bifidogenico, ragion per cui appunto in molte formule infantili trovate l'addizione di frutto-oligosaccaridi, di galato-oligosaccaridi. Gli oligosaccaridi del latte materno sono galato-oligosaccaridi, ma sono diversi strutturalmente da quelli che trovate nelle formule per le ragioni che vi spiegavo prima. Questo è semplicemente per darvi un esempio di un prodotto che è nato anche dalla nostra ricerca e sviluppo, quel microorganismo lì è un microorganismo che viene dai nostri laboratori, non è volontà di fare pubblicità perché non abbiamo nessun interesse commerciale su questo prodotto, ma è per dire che in qualche modo c'è uno sforzo nell'utilizzazione delle conoscenze relative all'interazione tra microbiota e bambino. Ora abbiamo visto due elementi fondamentali per lo sviluppo del microbiota nelle prime fasi di vita, la modalità di parto e la modalità di alimentazione. Gold standard, parto naturale e allattamento al seno. E chi non lo può fare, giustamente perché in molte circostanze la nascita è col parto cesareo, l'allattamento non è al seno ma è con formula, secondo molti autori l'abbinamento, cioè la possibilità dell'allattamento naturale in caso di parto cesareo rappresenta un elemento estremamente positivo perché accelererebbe, come dire, consentirebbe l'allattamento al seno di recuperare quel ritardo che abbiamo visto prima caratterizza nello sviluppo del microbiota i nati con parto cesareo. Negli altri casi, quindi diciamo nel caso tra virgolette peggiore dal punto di vista microbico, l'integrazione alimentare, l'uso delle formule in grado di promuovere adeguatamente lo sviluppo dei bifidobatteri nel bambino può sicuramente essere di supporto. Ultima parte che vuole essere propedeutica alla presentazione successiva delle colleghe del ruolo del microbiota nell'alimentazione delle successive fasi di vita in generale, momento chiave lo svezzamento. Ora, lo svezzamento poi si traduce nella introduzione degli alimenti solidi, io non sono un nutrizionista quindi non mi addentro in valutazioni di tipo nutrizionale ma sempre ragionando in termini microbiologici l'introduzione di alimenti solidi vuol dire di base introduzione di polisaccaridi complessi e di fibre e questo per il microbiota fa una grossa differenza perché abbiamo visto prima i bifidobatteri utilizzano di preferenza gli oligosaccaridi come substrato per prodursi l'energia, ci sono nel momento in cui arrivano nell'intestino fibre complesse indigeribili o polisaccaridi complessi prendono cominciano a trovare un substrato utile altri gruppi microbici con la capacità di utilizzare queste sostanze gruppi microbici con la capacità di degradare i polisaccaridi complessi questo è anche propedeutico allo sviluppo della comunità microbica che è un vero e proprio ecosistema per cui ci sono gruppi che degradano le sostanze più complesse in sostanze più semplici che poi vengono recuperate dagli altri anche dai bifidi cioè da quelli che hanno meno capacità metaboliche e per dimostrarvelo ho trovato che questa slide fosse particolarmente carina molto sintetica ma rendesse l'idea di come il bambino abbiamo detto parte ricco praticamente solo in enterobatteri nell'arco diciamo del primo mese cioè ragioniamo in termini temporali un po' generici cominciano anzi compaiono i bifidobatteri che diventano preponderanti il cerchio più grande in alto blu e dei bifidobatteri se immaginiamo lo svezzamento dal non lo so io non ho una competenza specifica ma insomma mi dicono dai 4-5 mesi fino all'anno vediamo come il profilo di quei cerchi colorati cambia completamente i bifidi che prima erano un cerchio grande diventano molto più piccoli e lasciano il posto ad altri microrganismi alle lacno spirace e alle rumino coccace che sono il cerchio arancione chiaro che vedete diventa sempre più importante a mano a mano che si va oltre diciamo dall'anno di vita in poi curiosamente le rumino coccace sono quelle che aumentano molto anche ad esempio nelle donne che fanno largo uso o anche negli uomini certamente di bulk forming agents cioè di quelle fibre complesse che aiutano il transito intestinale tipo la fibra di psyllium eccetera eccetera perché sono gruppi microbici rumino coccace vi dovrebbe dire qualcosa che hanno la capacità di digerire le fibre complesse quindi nel momento in cui nella dieta introduciamo sempre più fibre per noi naturalmente non digeribili i batteri che sono capaci di farlo a proprio vantaggio per produrre energia cominciano a prendere il sopravvento per cui vedete i bifidi diminuiscono progressivamente a favore di quei gruppi che sono capaci di utilizzare i polisacare di complessi a volte a volte sempre in termini diciamo di microbiota ci chiediamo ma quanto lo svezzamento in quanto tempo deve avvenire l'allattamento al seno quanto dovrebbe durare allora se mutuiamo la storia dai primati cioè dai nostri veri antenati beh lì c'è la tendenza pubblicata da tantissimi autori a seguire io l'ho preso paro paro condizioni di coevoluzione ancestrale tra microbiota e ospite il che significa parto vaginale allattamento al seno il più prolungato possibile nei primati arriva anche a due anni certamente questo non è compatibile con la vita delle donne di oggi chiaramente si cerca di contrarre il tempo dell'allattamento e di accelerare lo svezzamento però una cosa che mi faceva piacere sottolineare è che parecchi autori questa è in francese ma semplicemente vuole dire che l'influenza che la nutrizione ha dimostrato di avere sullo sviluppo batterico intestinale porta a raccomandare un allattamento prolungato e uno svezzamento prolungato e lento cosa che non è compatibile con i nostri tempi ma perché più è graduale quel processo che vi mostravo prima di modificazione del microbiota e più c'è speranza che quell'equilibrio resti forte la resilienza di quel microbiota come dicevamo all'inizio resti particolarmente come dire stabile particolarmente resistente paradossalmente spesso nei bambini alimentati con formula si osservano dei tassi di crescita più rapidi dei bambini allattati al seno cioè dei tassi di crescita maggiore a parità di tempo perché sostanzialmente come dire c'è attraverso la formula l'apporto di zuccheri semplici che stimolano il microbiota ad estrarre l'energia rispetto a un allattamento al seno prolungato e poi uno svezzamento lento questo può essere una chimera un'illusione nel senso che tanto più i batteri trovano facilmente da mangiare tanto meno attività metabolica cioè metabolica tanto meno attività digestiva devono svolgere più ci danno energia quell'energia poi il nostro organismo la utilizza pare che ci sia ma dico pare perché il report è solo di alcuni autori una tendenza al sovrappeso nei bambini alimentati con formula proprio legata ad aspetti ancora una volta connessi all'attività del microbiota io con questo vi ringrazio per l'attenzione perché credo che questi poi temi legati all'introduzione delle fibre e al ruolo dell'alimentazione nella nostra salute con la mediazione del microbiota sia l'oggetto della presentazione successiva grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti